L'altro rifiuti di questa mattina è principalmente stato trattato l'argomento emergenziale di come smaltire i rifiuti visto il sequestro del cantiere dell'Otto 6. Si sono esaminate alcune proposte, quattro, e è stato deciso di istituire una commissione tecnica per la valutazione puntuale dei prezzi offerti, dopodiché si prenderà la decisione finale. E fra queste proposte qual è sembrata quella più convincente o percorribile? De valuterà la commissione tecnica.